I banchi e le sedie sono tutti ordinati e al loro posto, ma da martedì 12 settembre verranno nuovamente occupati dagli studenti lombardi e cremonesi. Grande incognita è quella dell'organico. In fase di definizione e noi stiamo aspettando i neo immessi in ruolo. Alcuni hanno già preso contatti con l'istituto e a noi fa veramente molto molto piacere e ci auguriamo di raccoglierli tutti. Questo è il nostro auspicio, anche perché poi la ricaduta sarà sugli apprendimenti e sui ragazzi. Il nostro liceo è un po' un punto d'arrivo per tanti insegnanti, quindi rispetto magari ad altre scuole abbiamo qualche problema in meno relativamente un po' alla precarietà, che contraddistingue da sempre la scuola italiana. Noi ci siamo essi un pochino meglio rispetto all'anno scorso, soprattutto per alcune, come ha accennato, alcune emissioni in ruolo, che in particolare in lettere ci hanno un po' risolto alcuni problemi. Stiamo aspettando, come sempre, per alcune discipline tipicamente informatica, qualche cosa di matematica e quindi aspettiamo o le emissioni in ruolo oppure dalle supplenze. Sappiamo che anche questo è un problema che da sempre caratterizza la scuola italiana, della necessità di organizzare per tempo, perché la scuola parte il 12 di settembre e il 12 di settembre avremo qualche cattedra vuota. Per alcuni studenti è già tempo di studio per chiudere alcune lacune e recuperare le materie per la promozione. Hanno ancora una settimana, 10 giorni di tempo prima di ricominciare. Con i fondi del PNRR alcuni istituti si preparano per progetti e novità per gli studenti delle scuole superiori, da tecnologie a figure di orientamento. Senz'altro l'incremento della figura del tutor e dell'orientatore all'interno dell'istituto è tutto veramente a beneficio dell'acquisizione di competenze professionali che poi i nostri ragazzi spenderanno all'esterno. È un'organizzazione che l'istituto in Audi ha già sperimentato in proprio, ma usufruendo di questi fondi naturalmente verranno incrementati. Quindi ci sarà veramente una trasformazione per quanto riguarda le nostre strumentazioni con anche aule immersive. E questo veramente è un'ottima opportunità che anch'io la vivo con entusiasmo e tutti i docenti.